Nelle coreografie metto passi tecnici, quindi niente, volevo chiederle se poteva venire nelle mie lezioni in modo tale che mi aggiustava bene le cose tecniche perché voglio imparare tanto prendere, prendere, prendere e quindi a me sinceramente farebbe tanto piacere lavorare con lei in sala però so anche che lei potrebbe dire che, cioè nel senso, non so suo allievo però perché chiedo questa cosa? Perché a me piace il modo in cui lavora anche con i suoi allievi che è severa Senza il... Ah ok, senza le virgolette, cioè nel senso che è severa cioè che insegna, che insegna Punto Allora, siccome è il mio lavoro, insegnare, lo faccio molto volentieri Grazie 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 Grazie